Oggi bilancio di fine mandato ma anche annuncio per volersi ricandidare. Sì, il mio partito, il PD, mi ha chiesto di essere candidato della coalizione di centrosinistra. Io ho accettato con prudenza ma anche con grande passione perché questi quattro anni sono stati difficilissimi senza trasferimenti dello Stato con il prelievo fatto dal governo sulle nostre entrate, l'RCA o l'IPT che praticamente per far capire ai telespettatori siamo diventati noi il bancomat del governo. Non abbiamo potuto assolvere quelle giuste funzioni che erano soprattutto la manutenzione stradale e le scuole. Adesso dobbiamo ringraziare soprattutto la regione Abruzzo che ci ha dato alla provincia di Chieti 20 milioni di euro che ci permette di cominciare questo grande lavoro soprattutto in aree come l'Alto Vastese che è un'area veramente martoriata e intervenire anche sul patrimonio scolastico. Questo lo faremo con grande entusiasmo se io non dovessi essere confermato. Credo che questa legge del Rio sia stata veramente una legge non adeguata e non ha dato risposta ai cittadini ma ha devastato l'architettura delle province che avevano un loro ruolo, una loro funzione e che invece adesso viene la provincia penalizzata da una confusione amministrativa, giuridica che ci ha fatto perdere il 50% dei dipendenti, da 300 dipendenti siamo 141 però le strade sono sempre quelle, 1800 km, le scuole sono sempre quelle quindi io non so se è una cosa che può essere gestita in questo modo. Abbiamo solo due dirigenti, grande sofferenza, ringrazio tutta la struttura perché mi è stata vicina e soprattutto i miei consiglieri ma voglio dire anche grazie alla minoranza perché ha svolto il proprio ruolo con grande dignità ma soprattutto con grande lealtà e questo è un segnale di buona politica che fuori magari non arriva.